E' il direttore che fa l'editoriale, brevissimo, questa volta la scrivania. Basta con ste fake news, con l'utilizzo delle notizie mezze false e mezze vere per farsi i fatti propri. Cicciolina che scrive su Facebook le condoglianze al suo amico Thomas Milliam che è morto un anno e mezzo fa. Un altro che esulta l'arresto di un sindaco che è stato arrestato tre anni fa. Ragazzi, basta, siamo seri, siamo seri, i social possono essere molto utili, ma usati così fan solo del male e della falsa informazione, dello stupido e inutile narcisismo. Buona giornata.